Via Cairoli, poliambulatorio della ASL. Nel pomeriggio non c'è quasi nessuno, ma la mattina si formano lunghe code perché qui si sbrigano anche le pratiche amministrative. Ci sono stati un paio di furti e qualche lite che poteva finire male. E allora da qualche mese nell'atrio del poliambulatorio di mattina c'è un metronotte. Questo è il poliambulatorio della ASL, siamo un isolato in mezzo dal centro di salute mentale. Lei è venuto qui e ha visto che c'è un vigilante. C'è un metronotte che vigila sulla gente che viene qui per prendere il biglietto, il numerino, queste cose qui. Mentre poi nel CSM che è praticamente a un isolato non c'è nessuna sicurezza che lì ci dovrebbe essere. E già perché il metronotte non era anche nel centro di salute mentale davanti al quale ora ci sono i fiori e i bigliettini che ricordano Paola Labriola, la psichiatra uccisa da un suo paziente. Il centro del quartiere Libertà rimarrà chiuso sino a lunedì. Medici e infermieri si sono visti nell'altro centro, nel quartiere San Paolo. Una riunione lontano dalle telecamere, non c'è molta voglia di parlare all'indomani di una morte che ha sconvolto tutti. Sull'uscio solo i vigili urbani mandati a presidiare centri di salute mentale per cui fino a ieri non c'erano i soldi per la vigilanza. Grazie a tutti.